Focaccia integrale, apriamo il sacchetto, appoggiamo la focaccia su una teglia di alluminio e la cuciniamo a 250 gradi per 3 minuti. Questa focaccia la farciamo con una salsa pomodoro confitta, quindi un pomodoro cotto al forno molto saporito con origano, basilico, aggiungiamo della fonduta di bagossa. Delle scagliette e le appoggiamo sempre in forno un minuto a scaldare. La fonduta si è ammorbidita, appoggiamo la focaccia con un'idratazione altissima. Aggiungiamo il lardo di maiale nero che va a sciogliersi sopra ad ogni fetta. Dare un contrasto di dolcezza con alcune gocce di fico bianco caramellato. Terminate con un goccio di olio per risaltare tutti i gusti e se avete a portata di mano una macinata di pepe. Aggiungere un'idratazione altissima.